ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua ancora una volta con una puntatona di quelle scintillanti e scoppiettanti dedicata ai video delle vostre collezioni che contengono gli orologi perché il fulcro di tutto il canale sono gli orologi in realtà il fulcro del canale è una finestra sulla mia passione sul mio percorso in questo campo di orologi perché io non mi piace non definirmi un canale di orologeria no che è un po troppo alto orologeria è altra roba qua sto parlando di orologi gli oggetti orologi poi quello che c'è dietro piano piano si sviluppa con la passione col tempo e ci divertiamo tutti quanti come partecipare lo sapete scrivete a questa email anzi inviate il link a questa mail perché prima lo dovete caricare su wittransfer.com e poi lo inviate a me e lo scarico e poi li guardiamo qua tutti insieme però prima di guardare oggi ciò simpaticamente questo simpaticissimo tutto simpatico qua seco skx il bellissimo orologione diver entry level degli anni che furono cioè poco tempo fa mi sembra nel 2020 e c'è stata la produzione e questo qua è un orologio diciamo rappresentativo di quel periodo ed è anche di seco è rappresentativo anche di seco è una bella pietra miliare nella storia di seco un diver qua con la ghiera pepsi molto carina carina prima di guardare video volevo ricordarvi che io ho anche un account instagram quindi cercate contatori del tempo su instagram e potete vedere le foto degli orologi in anteprima di quelli che pubblicherò di quelli che farò di cui farò la recensione e anche quelli che acquisto insomma è tutto un pur purri di soggetti che fanno carne al fuoco come si suol dire adesso vando ai discorsi inutili e andiamo al primo video ciao davide mi chiamo andre ho 27 anni e ti invio questo video dalla germania germania innanzitutto ti volevo fare i complimenti per il tuo canale youtube e per la tua community su telegram grazie io ti seguo da un annetto e proprio grazie a te ho iniziato ad appassionarmi a questo mondo dell'orologeria bravo bene oggi ti mostro una parte della mia collezione partendo da questo longina automatic ultracron che è una storia tragicomica dietro praticamente una volta acquistato due settimane dopo il rivenditore ha messo lo stesso annuncio stesso orologio però con il bracciale originale dei anni 70 ovviamente il bracciale a parte è introvabile ho chiesto al rivenditore se potesse vendermi solo il bracciale mi ha detto di no e quindi io mi ritrovo con questo secondo longina ultracron stesso orologio però con il bracciale originale dei anni 70 tanta roba ti invidio un dress watch non è dress watch perfetto dimensioni molto piccole se non sbaglio sui 32 mm 34 giù di lì 32 34 cambia poi specie con la cassa così di forma quasi quadrata no 34 è grandissimo capito 32 magari veste come un 35 36 tondo però che invidia che invidia che mi fai con questi due orologi qua io l'ultracron c'erò con il calibro 4 3 1 il simpatico calibro 4 3 1 a 36 mila alternanze infatti sul quadrantino c'è la frequenza non alta frequenza primo calibro d'alta frequenza di funzionante della storia sono belli io non so se avrei comprato bracciale quello che bracciale originale cioè una volta che c'è un esemplare anche con un centurino va bene cioè però ti capisco è chissà chissà ma lo vendi mica quell'altro non ma invece lo già un ultracron però fanno fanno gola mi non ci mi fanno tutti gola non so come mai andiamo avanti questi erano gli ultimi acquisti ora ti mostro il resto della collezione promettemi di non spaventarti cos'è ecco a me piace tenere tutto diciamo in teca bello in vista fermi tutti c'è anche il modulo lunare con lo speedmaster no è un moon swatch quello lì però c'è il modulo lunare ma te sei 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 malato però bella è sta sta mega baccheca qua cavoli che bella anche protetto così da poter buttarci un occhio durante la giornata partiamo da questi due seco due diver di due diverse generazioni seiko skx e seiko prospects sbp 08 3j 1 passiamo poi a questo tudor royal 41 mm in colorazione blu so che a te non piace il fatto che ci siano i numeri romani però io trovo che su questo orologio ci stiano particolarmente bene te l'ho vinta a me piace anche parecchio poi ho questi due swatch non mi dilungherò particolarmente su questi giocattolini infatti c'è un altro giocattolino ma ti vorrei far vedere i supporti che ho creato io con la mia stampante 3d per questo lego e dopo ti voglio mostrare questo bulova lunar pilot in edizione limitata cinquantesimo anniversario trovo che l'orologio sia fatto molto bene per essere un quarzone così come la confezione molto azzeccata ben rifinita poi passiamo a questi due seco presage colorazione blu e verde sbp 219 e sbp 167 ok quello in colorazione verde come si può ben vedere a un gmt con tanto di riserva di carica fatto molto bene sotto il sole da veramente dei bei riflessi e rende particolarmente bene come rende particolarmente bene anche questo rado bello top 1957 in colorazione verde che sotto il sole diventa un gioiellino splendente che bellino che quello lì e il quadrante diciamo al buio diventa un verde molto scuro e infine chiudiamo con un seco 5 sport e questo bulova super civil day date regalatomi dal padre della mia ragazza è un omaggio ovviamente rolex di circa 30 anni bene davide io ti ho mostrato parte della mia collezione spero ti sia piaciuta fammi sapere cosa ne pensi ed auf Wiedersehen auf Wiedersehen cavoli tutto bello proprio bella anche la presentazione nel senso che sembra di entrare in un negozio o meglio in una mostra in una mostra di orologi sotto la teca trasparenti con tutti gli aggeggini intorno no tutto bello 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 però a me mi viene in mente che se ti entra qualcuno in casa ora non è per portare sfiga ma ti entra qualcuno in casa si trova già tutto pronto anzi ti portano via va bene probabilmente abiti in un posto in una situazione nella quale è quasi impossibile entrarti in casa no come si suol dire però rendere la vita difficile al prossimo cattivo sarebbe una delle prime cose da fare ad esempio merda per merda come si suol dire tenere separate scatole garanzia da orologi no in tutt'altro posto in modo che nel caso che gli orologi scompaiano almeno non hanno la scatola la garanzia puoi fare una mezza denuncia poi risalire al comunque non volevo entrare in questo argomento così spinoso ma va bene contento te contenti tutti prossimo ciao davide ciao ciao a tutti gli amici del canale questo è il secondo video che porto nel primo vi ho fatto vedere un oison jacquedro parto col primo orologio che è un orio e bambino delle lancette blu molto carino molto molto bello da portare veramente ha fatto bene questo orologio qua io volevo farti vedere un mido qui un mido multiforte un day date che ha un certificato cost tra parentesi questo molto bellino anche questo video qua con questo verde qua che alla luce è veramente veramente bello si mido ha la particolarità che molti orologi che realizza sono certificati cronometro quindi essendo un marchio diciamo entry level si può definire così è proprio il mido che si possono trovare gli orologi certificati cost dal prezzo minore più o meno ce ne sono un sacco e costano relativamente poco volevo farti vedere due micro brand uno è e che watch ce l'ha anche io è un dagger di 300 metri bello li conosco e k watch e k watch ho fatto la recensione anch'io proprio di questo qua mi sembra però io ho il gmt ho la versione gmt perché tanto il gmt mi è indispensabile perché con tutti i viaggi che faccio in giro per il mondo devo avere non mi serve a niente non mi serve a niente però è la funzione gmt è lì con la quarta freccia che è lì bella che fa la sua bella figura e siamo tutti contenti un numerato per il prezzo che ha veramente un bellissimo orologio certo promossissimo poi voglio farti vedere il orologio di francesco calamai ebbe che non l'ho preso da tanto per 4 5 mesi è un numerato molto bellino da portare un bellissimo blu certo ho preso anche un tisso prx 80 con bracciale integrato che sono un amante anche dei bracciali integrati rispetto a te e non mi stancherò mai perché secondo me sono roggi molto belli da portare non è rispetto a me anche a me piacciono piacciono ogni volta anche all'ultimo mercatino che sono andato c'erano quei vintage con bracciale integrato e ci sbavi e ci sbavi sopra però sono sicuro che se lo piglio e lo porto a casa mi hanno stufato cioè perché poi vedi che escono tutti micro brand brand contro brand macro brand delta brand che fanno la loro versione del bracciale integrato della lunetta con le viti con le tonde con questo quel bracciale fatto così e sono tutti uguali a certo punto e dici ma che cavolo mi vado a impelagare in questa anche basta no cerchiamo qualcosa che abbia un aspetto un po diverso ed è per quello che ho preso il bright in cronomat gmt perché con il bracciale rollo che c'ha cartucera è lui è cioè non è che si scappa poi magari copieranno faranno brighieranno ma perlomeno c'è una sua identità ecco mi piacciono un po se ci riesco perché poi poi ci ricasco poi gli orologi più meno si assomigliano tutti e non è che però io ho preso anche il suo fratello dove si apiare x però con il quadrante azzurro molto benito questo quadrante qua è molto estivo da portare poi ho preso anche un semplicemente grato un citizen vedi cioè sono tutti e della serie 8 automatico veramente preciso è veramente bellino questo tipo di orologio si bello ho preso uno yeh ma l'altra si chiama urban traveller che è un calibro di manifattura ha una lavorazione che è molto interessante che piace vedere anche sul quadrante a nido d'api molto molto bellino questo orologio poi ho preso un'ora del mondo quest'ora del mondo quello di frederick costante e botta torri preso perché a me parte qualità prezzo che veramente interessante poi anche perché molto intuitivo e molto semplice da mettere a posto molto bellino l'ho appena arrivato in quanto l'ho lasciato tre quattro mesi l'ho portato perché diciamo che scartava di 30 secondi al giorno e un orologio di calibro di manifattura che scatta di 30 secondi al giorno non mi andava di tenerlo eh no ho fatto bene poi ho preso anche uno zenith gonfiammelo top il defy skyline con le secondine impazzita a ore 9 che fa il decimo di secondo colore blu molto bello questo qua è veramente bello è da portare questo raggio di alta classe ho preso un donna bella melo e le rolex classico top e lui che nessuna presentazione bellissimo orologio bellissimo quadrante è preciso tanto si sa si sa poi sto qui un tudor gonfiatte qui il tudor veramente con questo orologio questo e i pelagon secondo me li ha indovinati veramente perché sono bellissimi l'indovina tu do lo sa farli sa farli ho anche uno yacht master e non mi ricordo se l'ho fatto vedere l'altra volta eh sinceramente poi uno yacht ma perché secondo me sì questo qui è uno yacht master 40 mm quadrante blu anche questo impeccabile molto molto bello peccabile questo orologio qui è un nebbere un otto giorni questo che è stato regalato nella mia compagna 14 anni fa più o meno occhi croce e secondo me è un io lo tengo ed è un bellissimo roggio a portare sotto la camicia veramente veramente interessante poi dopo quando anche due orologi da mia compagna uno rolex e vabbè il rolex quel pink quello rosa 36 mm e c'è anche un euro di chiaro depo buono ecco un orologio con su i diamantini questo qui è già sconsù i diamantini molto bene l'ultimo orologico lo farti vedere e questo veramente secondo me è una chicca quanto qua l'arte si sposa con un'orologeria e l'opena è appena arrivato quindi ve lo faccio vedere questo qui è un top per la custodia questo l'orologio c'è chi non c'è i kine costante ingenti c'è i kine un russo indipendente orologi veramente interessanti qua non è che piace molti discorso classico dell'orogeria qua è proprio l'artista che si mette a disposizione dell'orogeria e fa dei quadranti che sono veramente interessanti questo qui era lui era la relazione con c'è i kine grazie davide grazie a tutti alla prossima grazie a te grazie a per averci fatto vedere questa collezione che è questo tipo qua era un check in per lui era hard non era proprio il check in marchio no è un po una collaborazione per cui ha fatto un'edizione limitata per lui era hard mi sembra adesso sono due le edizioni limitate e se si tratta sempre di orologi di valore c'è io non lo comprerei mai ok chiama time eater mangiatori di tempo mi sembra questo orologio qua non mi piace è pagliaccioso no non mi piace anche se sono anche se è roba di di classe no di pregio a me non mi piace quindi lo lascerei lì però cavoli gli riconosco il valore che ha e a te il saper scegliere gli orologi anche se a volte vai nel mainstream no con i rolex sony bla 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 però c'è di quegli orologi che tanto di cappello e complimenti vivissimi complimenti bellissimi ciao davide sono davide da palermo davide ti volevo mostrare la mia collezione di orologi certo faccio solo una premessa amo gli orologi ma non sono un appassionato di orologeria quindi vedrai molti quarzi molte orologi a te sicuramente non piaceranno allora inizio mostrandoti la mia collezione di sector quasi tutti al quarzo molto semplici questo è un solo tempo la collezione di sector 2 finti cronografi o meglio questo è proprio finto perché è un datario questo invece è un po più cronografo un po più cronografo questo cronografo in edizione speciale dedicata a orge lorenzo questo mi fu regalato per la crescita nel 1997 e tempi costava quasi un milione di lire e questo invece è un settore automatico con movimento seco altra marca che adoro e di cui amo farne collezione sono gli swatch vabbè ci sta abbiamo questo ironi classico crono c'è un ironi più moderno tutto in acciaio yes molto carino sono altro crono un crono anni 90 velocissimo molto carino secondo ma sono questo swatch dedicato alle olimpiadi di atlanta del 96 ed infine il mondo che tu ami tanto che secondo me se visto per quello che è ovvero uno swatch in questa collezione ci può stare tranquillo certo provato è uno swatch non è un omega approvato e ho messo questo cinturino in silicone che secondo ci sta veramente bene ed in ultimo sempre per restare in famiglia swatch questo swatch automatico vabbè anche lui anni 90 e vabbè da 93 credo vabbè passiamo passiamo poi a due cronografi questo edifice by casio secondo me davvero davvero bello se futuristico sembra l'astronave passiamo a questo festino festi marca che so che tu non adori tanto però secondo me per ogni giorno è un bel cronografo lorenz crono da 42 mm orologio pacchianissimo che ho voluto comprare così proprio di proposito per ricordare un evento importante della mia vita e l'ho voluto però insomma che si vedesse non lo utilizzo moltissimo anzi quasi mai mai ma in collezione mi mi piace guardarlo ogni tanto per ricordare quell'evento ma ora uno deve deve un evento deve celebrare un evento importante si prende un lorenz e tutto placato d'oro e cioè mi sarei preso anzi un vintage anzi cioè per assurdo la parità di prezzo con quella cifra lì no lorenz poi vabbè e i gusti sono gusti ti sei contento e siamo contenti tutti però minchia che se è brutto l'okman island comprato durante una vacanza all'isola d'elba ci voleva avere quel ricordo e secondo me comunque al di là di tutto è un orologio fatto veramente veramente bene molto carino qui c'è il ricordo dell'isola d'elba è un souvenir classicissimo timex acadia da 40 mm con la sua illuminazione molto carino per un utilizzo giornaliero è top top passando poi alla famiglia citizen abbiamo questo classico urban da 42 mm anche questo un orologio chiuso quasi giornalmente questo invece un sito sport da 40 mm l'acciaio nero particolare la data mi piace parecchio per rimanere in famiglia abbiamo un vagari crono un bell'orologino secondo me con un cinturino molto carino e poi sempre in famiglia vagari questo gmatic che ho comprato per colpa tua colpa mia ori andiamo in casa orient con questo cano da 44 mm non è bellissimo molto sportivo molto estivo estivo seco 5 sport con quadrante color champagne questo usciva dal negozio con un bracciale maglia milano preferito mettere questo cinturino in silicone molto particolare carruccio orologio giù dress watch per eccellenza questo seco al quarzo quarzo un placato senza l'angetta dei secondi va bene questo seco 5 crystal di cui ti volevo chiedere qualche informazione perché l'ho comprato ad un mercatino ma non so se un originale o è un clone allora non è originale non è originale perché intanto un seco 5 come prima cosa solo con la data col datario no deve avere dei date la finestra giorno e data già lì uno dice ma che minchia stiamo guardando qua poi c'è la scritta seco e lo scudetto 5 che sono disassati sono disassati non vanno bene sono storti diciamo così in italiano anche lo scudetto le 5 è squadrato è squadrato poi la scritta crystal waterproof sui seco 5 non deve esistere non esiste il modello crystal poi mancano le due referenze sul calibro e sulla cassa i numerini piccolini sotto lì al 6 non ci sono non c'è niente poi già questi indici qua davano l'idea di poi il bracciale la sua è staccato non è meno il suo bracciale questo completamente completamente lasco insomma fake clona devo chiederti se tu mi potrei aiutare a questo tisso classic dream da 38 38 elegante molto elegante questo tisso per x con cinturino in cuoio ci sta davvero molto bene un cuorzo bello questo zenith defy surf da 37 mm orologio anni 70 sono bellissimo bracciale originale bello bello orologio se reverso anni 90 omaggio alle frecce tricolore ma non è un reverso cioè cos'è è una cioffecca sta qua non è un reverso e non è nemmeno un omaggio alle frecce tricolori c'è tu eroi volanti cioè secondo me è è un sistema per aggirare il copyright delle frecce tricolori no metterci una roba simile eroi volanti ma reverso ma di cosa stiamo parlando un quarzo ed infine ti volevo mostrare il primo orologio che acquistai a dieci anni fu il mio primo acquisto un'autonomia al mercatino dell'usato per dirti che la malattia inizio presto inizio presto grazie davide complimenti per il canale ti volevo chiedere se devi qualche consiglio qualche suggerimento da darmi e love love suggerimento da darti sarebbe quello di fare un pacco unico e mettere sotto la pressa idraulica tutti questi orologi non è vero non è vero perché verso la fine sono saltati fuori degli orologi il secco 5 quello sport prx tisotino sono venuti fuori qualche lo zenite fai sono venuti fuori qualcuno ma è talmente tanti orologi insulsi che non ha senso per me poi chiaramente per ti ha senso per me non ha senso prossimi chiedi il consiglio ti dico almeno dai dai sector fino a un certo punto festina lockman cioè fai un pacco unico e dallo la caritas buttalo dentro il coso sai quei i bidoni quelli dove ci si butta i vestiti no ci butti anche gli orologi magari così qua se c'è qualcuno che ha bisogno di un orologio usa quelli lì perché non si possono vedere cioè non è che non si possono vedere più che altro non ha senso io dico inizio mi compro un vagari mi compro un citizen eco drive mi compro un 4 5 6 no poi però non ha senso andare avanti a comprare ancora un orient un secco un vagari un secco 5 un altro secco 5 a meno che tu non voglia fare una collezione monotematica ma un accumulo di orologi entry level a quel livello lì quarzi poi per me non ha senso potresti comprare uno un po più decente sempre solito discorso no ogni tanto ne vendi 5 6 prendi un altro po più al grado sopra ma tenerli tutti così questo il mio consiglio poi di più non so come si suol dire prossimo ciao davide sono alberto dalla provincia di ravenna innanzitutto complimenti per il tuo canale che segui costantemente ti voglio presentare la mia collezione di orologi ma partiamo con un quarzo il suo classic dream del 2015 un orologio che dress watch che attualmente non porto più tanto però mi piace averlo in collezione comunque elegante anche se la leggibilità non è sempre al top ma sembra un orologio che mi piace ancora sembra leggibile procediamo con un altro quarzo tiso prx 35 mm e ero andato per prendermi il 40 ma nonostante abbia un polso da 18 non me lo vedevo assolutamente lo trovavo veramente troppo grosso qui nel nell'attacco bracciale e mi sono innamorato di questo 35 quando l'ho preso non esisteva ancora la versione che è uscita da poco col powermatic 80 però devo dire che non penso farò l'upgrade anche perché mi piace molto questo quadrante così verde un po' acceso diciamo vabbè è d'accesso passiamo al primo automatico meccanico citizen suiosa anche questo questo è un 40 mm un orologio che si vede molto devo dire che per il prezzo a cui viene venduto è un ottimo orologio mio avviso e la cosa che forse cambierei è il bracciale che nonostante sia secondo me ben fatto non lo non si sposa secondo me benissimo con la cassa mi piacerebbe molto mettergli un cinturino in cuoio o in pelle nero ma io non lo so a me piace secondo me si sposa benissimo cioè utilizzando i tuoi termini è proprio la continuazione della della cassa a me a me piace cinturino in pelle non si trovano non si trovano no non sa nemmeno se ne faranno le versioni di citizen suiosa col cinturino se ne dovessero fare sarei fortunato altrimenti l'unica alternativa è fartelo fare da un artigiano e quel caso lì devi sacrificare credo la maglia centrale che va attaccata si si parte da lì cioè la maglia centrale lì e poi ci fa il cinturino in pelle attaccato però vedi un pote però tutti i best by the bracciale integrato ce l'ha il prx e lo suiosa magari ma attualmente non non se ne trova non è da parte di citizen è da parte da terze parti quindi spero che prima o poi usciranno e sicuramente lo prenderò perché secondo me lo lo potrebbe esaltare ancora di più il calibro è classico miota serie 8 qui ha ghindato veramente male perché è un colore un po diciamo che non mi dice molto ma comunque va bene così va bene così rimaniamo sullo stesso calibro ma cambiamo decisamente tipo di orologio questo è un laco hacken da 39 mm e è un fligger ho preso il 39 mm perché è un orologio che veste veramente grande in quanto è fatto tutto quadrante rispetto alla cassa e anche il fatto che abbia il passo cinturino da 18 lo rende molto molto più grande secondo me lo rende più grande perché l'hanno fatto apposto ha fatto anche la recensione di questo i fligger erano da 50 55 erano dei padelloni così da mettere sugli indumenti per controllare il tempo mentre sul bombardiere durante la seconda guerra mondiale niente fighettaggine e quindi un bel 18 ti rende la cassa ancora più grande anche se dal 39 te la fa sembrare più grande come deve essere perché deve deve essere grande al polso sto orologio ma è di quello che in realtà è almeno diciamo da un punto di vista estetico però comunque un buon orologio il calibro è regolato molto bene come difetto vedo proprio questo bracciale questo cinturino da 18 se l'avessero fatto da 20 forse sarebbe stato sicuramente meglio immagino che l'abbiano fatto per un discorso di proporzioni fra il cinturino e la cassa dato che questi orologi notoriamente erano ben più grandi dei 39 millimetri bravo bravo procediamo con il diver mi unico diver in collezione seiko spb 237 il baby willard qui nella versione con cinturino nato che veramente è ben fatto una bellissima trama e di un colore quadrante colore grigio e mi piace molto il fatto che abbia gli indici con lumi bright un po ingialliti diciamo fa molto effetto vintage e orologio che ha dispetto dei suoi 42 millimetri e mezzo è veramente portabilissimo ma questa è una cosa che si sa e il calibro è il 6r 35 che non brilla sicuramente di costanza di marcia però nel mio caso tutto sommato è regolato bene forse sono stato fortunato perché dicono che insomma sono un po i controlli qualità siano un po così laschi diciamo come va va passiamo al primo cronografo e ce l'ho anch'io questo un grande classico emilton intramatic mechanical e ho preferito questa versione all'automatico perché semplicemente mi piaceva di più secondo me il dial è più bilanciato con i due subcontatori non ha la scala tachimetrica in insomma qui è tono su tono ed è una cosa che mi piace molto l'ho preso col cinturino perché il suo bracciale maglia milano non mi diceva molto però può essere che così è molto sobrio effettivamente tutto nero può essere che posso andare di aftermarket per dargli un aspetto anche più vintage più sportivo comunque è un orologio che adoro e bello bello non c'è tanto da dire diciamo ci piace ce l'ho anch'io passiamo al mio ultimo acquisto che bello questo è christopher world the 12 il nome è dato da dalla lunetta che è dodecagonale anche questo in stile gentiano come vedi tu ne sei uscito io sono ancora dentro fino al collo questo è un orologio che di cui mi sono innamorato online anche perché è l'unico modo per comprarlo dato che non ha distributori qui in italia sicuramente ma neanche penso nel resto d'europa e è un orologio che non inventa nulla perché non è che abbia delle trovate diciamo mai viste prima però trovo che sia fatto veramente bene qualitativamente ho visto tante recensioni in cui viene messo in confronto con il prx secondo me avendoli entrambi non c'è proprio paragone a livello di qualità dopo vabbè discorso di gusti è diverso è un'altra cosa e il quadrante bellissimo perché praticamente al motivo che è il logo di christopher world la bandiera a svizzere quello inglese ripetuto infinite volte è molto bella anche la finestra data tono su tono diciamo che viene un po criticato per essere di fatto molto simile al chapec antarctic chiaramente siamo su livelli c'è un abisso fra i due e da quello che ho letto comunque il disegnatore era lo stesso quindi ci sta che possa avere delle cose in comune pur essendo ovviamente su qualità completamente diverse e sì christopher world lavora non bene benissimo fa veramente dei belli orologi io non avendolo mai avuto in mano questo qua non neanche non posso non potrei nemmeno sbilanciarmi però lo vedo lo vedo che è fatto bene che le finiture sono di qualità mi dà la stessa sensazione se posso permettermi delle prime volte che ho visto il morris la croix icon perché lo vedi che le finiture sono eccelse non lo vedi e qua ugualmente le spallette di protezione invece mi hanno ricordato la bestemmia è però loris acquisto avvitate così no però però è bello cavoli complimenti bello bel quadrante qualcuno dice che assomiglia al chapec è quello che vuoi non ci interessa gli orologi si assomigliano tutti però a me hanno un po' stufato non lo vedi la lunetta dove deca agonale il bracciale integrato capito meno un po stufato purtroppo sono ne vedo troppi ne vedo troppi di tutte le marche di tutte le razze denti level copie non copie ispirazioni non ispirazioni no ce la faccio più passiamo all'ultimo vai annart 417 es dopo versione da 39 mm anche questo è un cronografo a carica manuale il calibro è il sellite svw 510 con funzione flyback è un orologio che anche questo ho dovuto comprare online perché non è distribuito in italia devo dire che è un orologio che adoro perché ha un po tutte le caratteristiche che a me piacciono così essendo panda lunette girevole e inoltre il cinturino bund che secondo me rende tantissimo su questo orologio anzi ho provato anche a toglierlo è veramente non mi dà la stessa sensazione che ho con il cinturino secondo me è fatto anche molto bene come orologio d'altronde non è neanche un prezzo così basso e perciò sono molto contento anche di questo acquisto questo era l'ultimo se niente semplicemente se mi dici se la mia collezione ti è piaciuta o meno ti ringrazio se pubblicherai il video ciao 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 si mi è piaciuta la tua la tua collezione è veramente degli orologi che rientrano cioè anche se non rientrano ai miei gusti nel senso che non non li comprerei no non significa niente rientrano ai miei gusti sono belli specie questo anart qua alla fine che oltre a essere un bel orologio che lo si vede chiaramente e lo si sa lo si sa anche e devo farti i complimenti per essere riuscito a fare questa scelta perché andare fuori dal corno non è da tutti quando si ha un budget a disposizione si tende ad andare sempre sui soliti marchi sui soliti modelli addirittura lo faccio che io non è che ogni tanto io svio e vado un po di lave come il constellation che ho preso no è un po fuori dalla oppure come il devil col bracciale a mattoncini no ogni tanto vado fuori dagli schemi te ci sei andato di brutto con questo qua perché speso dei gran soldoni ora non mi ricordo quanto costano ma 3 4 mila euro no un cronografo e quindi hai quando hai avuto quel budget lì hai deciso di prendere un anart bravo 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 almeno ampliamo un pochino le vedute ci vogliono anche le persone che sanno buttarsi buttarsi come fai te bravo prossimo ciao davide ciao davide da treviso sono anch'io un po appassionato di orologio ho cominciato da poco anche seguendo il tuo canale che trovo molto molto interessante tu sei molto simpatico e professionale allora ti mostro un po dei miei orologi logicamente ci saranno qualche cioffecca sicuramente sono pronto a tutto vai tranquillo non mi arrabbio ci mancherebbe allora cominciamo da questo orologio taschino che mi è stato regalato tempo fa e si lo tengo così come come al quarzon come dici tu e niente lo tengo così per ricordo ecco ecco non lo uso meno male bene poi un orologio che usavo da giovane è questo sempre un quarzon un guigosar con le fasi lunari è da sistemare come vedi ci sto pensando anche se penso che poverino dopo tanti anni lo tengo così per ricordo vedi ma buttalo via con le fasi lunari era anche interessante in quegli anni la magari forse un po di ricordi di questo ronoso ricordi via poi altro regalo dei miei genitori tempo molto tempo fa anche questo questo è un veglia vedi è in titanio quarto e anche questo è la suoneria sempre quarzon comunque siamo sempre sui quarzoni ho tanti quarzoni come vedi non so il veglia adesso non sono se esiste ancora perché non vedo più niente del veglia non mi sembra proprio sono più interessato a questo marchio però è così è così ok poi il classico casio questo per ricordo nostalgico dei bei tempi che furono quando ero ragazzino è non sono ripreso così per averlo di ricordo sempre una cosa simpatica da avere simpatico passiamo a un altro quarzo un quarzo non so che storcerà il naso sempre quarzo allora questo invece è un tisso degli anni 80 mamma mia e questo ci tengo molto perché ancora il suo fascino lo so che non so se ti piace anche i numeri romani però l'ho usato tantissimo e ancora mi piace molto è un classico se questo è un classico quarzo bene passiamo adesso a qualcosa che ho preso ascoltando i tuoi consigli o vedi che servo qualcosa non tanto tempo fa questo già più recente ho preso un 6 con 5 simpatico normale nero grigio soleil automatico logicamente e questo devo dire che sono molto contento perché tiene benissimo l'ora è molto pratico anche il polso veste bene non è enorme è un 37 mi piace molto lo quasi tutti i giorni e allora ho consigliato bene dai poi avevo preso questo non tanto tempo fa un citizen ecco drive mi piace molto anche questo grandino 42 io il polso un po piccolo perciò si nota molto ci ho messo questo cinturino mesh per cambiare un po nessuno mi piaceva tanto e anche questo beh tieni il tempo benissimo e li conosci anche tu gli ecco drive è quanto da dire nel tempo bene sia ultimo acquisto di cui sono molto contento ascoltando i tuoi consigli è questo citizen in mezzo a tutto questo sono proprio l'ultimo acquisto sono molto contento ascoltato i tuoi consigli e ho cambiato il cinturino messo un atto poi al momento però poi logicamente userò anche il suo ma se questo proprio bello mi piace da matti anche come è fatto la storia che ha mi sono seguito tutto e anche i tuoi consigli appunto è contentissimo meno male va poi per finire finire ho tre orologi di mio figlio che mi ha detto se posso farti di vedere siamo qua posto ha cominciato anche lui appassionarsi allora ha un casino che lui un classico casio simpatico simpatico illuminator quelli più nuovi poi poi a questo welly merck svizzero al quarzo che questo dice che adesso non sa più se vengono anche addirittura prodotti vero male però fa la sua figura il polso è bello quarzo anche questo è quarto ultimo che ha preso da poco ascoltando che i tuoi consigli anche lui è questo orino automatico bravo 38 millimetri ha cambiato la cinghietta cinghietta ha messo questa nero cocodrillo questo piace anche a me infatti farò un pensierino in futuro mi piace molto è bello anche questo ed è molto contento e ti ringrazio dei consigli che gli hai dato di niente dove le dice che si trova molto bene comunque certo miei consigli infatti bello orologio ultimo l'ho lasciato per ultimo mio suocero che purtroppo non c'è più mi ha lasciato a mia moglie questo da taschino che aveva un rock shop penso che si pronunci così si dice roscoff semplicemente roscoff se quasi sono mi sembra che sia uno scappamento a caviglia sono degli orologi erano era il calibro per il proletariato l'aveva chiamato quando l'ho inventato veramente economico per fare gli orologi economici gli orologi a tasca economici primi del novecento mi sembra in francese proletari per il proletariato capito è roba veramente economica è se non sbaglio scappamento a caviglia poi correggetemi voi espertoni che scrivete sotto il video comunque insomma è pur sempre un reperto storico non ci meglio non ci meglio ho guardato un po in internet sì ho visto che era un po una novità in quegli anni e la scatola adesso prendo la scatola anche la sua scatola originale era stato preso a treviso nel 1933 pensate che spettacolo lo teniamo come come reperto e come ricordo e mia moglie adesso sia informata per cambiargli anche perché manca si è rotta la corona c'è rotta la corona e dobbiamo informarci per sistemarla insomma e lo teniamo come ricordo va bene basta ho finito ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dato e spero che che non di non prendere troppe giofeche e comunque grazie di tutto a te vai avanti così se in grande a te ciao 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 salutami il figlio insomma dai in effetti gli orologi non è che erano granché è però ci divertiamo anche con poco noi alla fine detto fuori il secco 5 e l'altro che non mi ricordo più cos'era di carino a l'oriente bambino che è del bambino però però poi per il resto insomma visto un po di diciamo concentriamoci sull'ultimo orologio da da tasca lì roscov che ti ha chiamato roscov e ci vuole mica niente a dirlo ti ho detto scappamento caviglia calibro economico realizzato per essere venduto la massa a basso prezzo quindi non è non sarebbe niente di pregiato tecnologicamente parlando ma diventa pregiato nel momento in cui diventa un c meglio del 33 hai capito ha senso sistemarlo no perché non cosa te ne frega a un certo punto non ti deve interessare nemmeno se funziona se non funziona capito perché lo tieni lì come reperto storico è il suo valore cioè apri il movimento lo vedi una volta funzionava ragioni così e niente basta mi sembra di aver detto tutto per oggi chiudiamo qua vi ringrazio per essere arrivati fino qua a guardare video con me spero che vi siano piaciuti che vi abbiano svoltato la giornata se così non fosse me ne dispiaccio e sarà mia premura provvedere in futuro a fare qualcosa di meglio per il momento vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao